I migliori talenti hanno a disposizione un'ampia varietà di opzioni per trovare lavoro. Come puoi distinguerti dalla concorrenza e attirare candidati giusti, che conoscano la tua attività, apprezzino la cultura della tua azienda e generino risultati positivi in modo duraturo? Più di 250 milioni di persone visitano Indeed ogni mese. Con le pagine aziendali Indeed puoi raggiungerle mentre cercano lavoro e attirare i migliori talenti, più velocemente. Metti in evidenza la tua azienda e illustra nella cultura con immagini, video, feed social e aggiornamenti. Trova i candidati più in linea con la tua cultura aziendale e il tuo ambiente di lavoro. La tua pagina aziendale Indeed è accessibile dalle offerte di lavoro anche sui dispositivi mobili, consentendo agli utenti in cerca di lavoro di trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno sull'offerta di lavoro e la cultura aziendale in un unico posto. Una volta che hai attirato la loro attenzione, le persone in cerca di lavoro possono seguire la tua azienda e puoi inviare loro avvisi personalizzati, trasformando i tuoi follower nei candidati di cui hai bisogno. Le nostre ricerche dimostrano che le persone che visitano la tua pagina aziendale Indeed sono, in media, quattro volte più inclini a candidarsi per un'offerta di lavoro della tua azienda. Presenta le posizioni più importanti e urgenti nella parte superiore del tuo elenco di offerte di lavoro per incoraggiare i migliori talenti a candidarsi. Fornisci informazioni in modo trasparente sulla tua azienda attraverso recensioni, domande e risposte. Evidenza una recensione che mostri i punti di forza della tua azienda e aiuti le persone a capire cosa rende unica la tua cultura. Grazie alla funzionalità Analisi, puoi confrontare rapidamente le prestazioni di singole località o dipartimenti rispetto a temi importanti sia per i candidati che per i dipendenti attuali. Puoi anche eseguire ricerche nelle recensioni per ottenere informazioni sulle opinioni del personale in merito ad argomenti specifici. Le pagine aziendali Indeed non solo ti aiutano ad attirare più candidati, ti consentono di conoscere l'andamento del tuo brand aziendale nel corso del tempo. Visualizza le metriche chiave e scopri il tuo posizionamento rispetto alla concorrenza in modo da attirare e fidelizzare più efficacemente i migliori talenti. Per saperne di più sui vantaggi delle pagine aziendali per il tuo brand, visita it.indeed.com slash recruiting slash branding Pagine aziendali Indeed Attira i migliori talenti mettendo in evidenza le caratteristiche uniche della cultura della tua azienda con le pagine aziendali Indeed Attira i migliori talenti Iniciosa Inici A Pocaially